A un nome e un cognome il ciclista ha spericolato ma non accetta l'invito dell'assessore a scusarsi pubblicamente. Sala piena, tante informazioni e anche tante domande per la serata sui Pifas in San Michele. Il sindaco Nicola Fico nomina il capo di gabinetto e Angelo Macchia già in servizio a Vicenza e in provincia. E' ancora in ospedale alla 36enne caduta da un condominio di Bassano e il giallo sembra avere una soluzione. Da quattro anni il contratto del personale delle case di riposo non viene rinnovato, scatta la protesta. Massime opprimenti, minime mai sotto i 20 gradi, da due mesi estate torrida in Pedemontana. Lupi scatenati in alto piano, altre predazioni e in pianura si sentono gli ululati ogni notte. Ladroni in azione nell'alta, spariscono pure i ricordi nei nonni mentre la famiglia è in sagra. Paura sulla 307 del Santo, si scontrano auto e scooter, un filo inferito finisce in ospedale. Buonasera e benvenuti al TG Bassano. Ieri sera vi avevamo raccontato delle bravate di un ciclista spericolato che aveva pubblicato sui social i video di corse fra le macchine del centro di Bassano. Ebbene è stato identificato dalla polizia locale, nel frattempo lui stesso si è recato dalla polizia locale per scusarsi, per spiegare l'accaduto. Nel frattempo l'assessore Campagnolo, l'assessore alla sicurezza, gli ha chiesto di scusarsi pubblicamente ed ecco com'è andata a finire. Ha un nome e un cognome il giovane che si era esibito sui social con molti video di acrobazie con la bicicletta nel bel mezzo del traffico di Bassano del Grappa. Dopo il servizio andato in onda su Rete Veneta, la polizia locale cittadina era già risalita la sua identità acquisendo tutti i video delle prodezze sulle due ruote. Nel frattempo il giovane che pure aveva visto il servizio si è presentato in comando ammettendo le proprie responsabilità. L'assessore alla sicurezza Alessandro Campagnolo lo aveva invitato a un confronto davanti alle nostre telecamere chiedendogli di scusarsi con la città, ma il protagonista delle bravate non ha accettato. Un autogol, secondo l'assessore, che spiega così la vicenda. Aveva capito che eravamo a un millimetro da lui, cosa imminente, entro la giornata comunque l'avremmo intercettato, si è presentato per cercare di mettere le mani avanti. Gli ho dato l'occasione di presentarsi al mio fianco a scusarsi con la città di Bassano per alleggerire quantomeno la sua posizione. Non ha ritenuto di accogliere il mio invito di scusarsi perché aveva paura di far vedere la sua immagine. Mi sembra una cosa abbastanza paradossale visto e considerato che è da febbraio che lo stavamo vedendo sui social. Campagnolo passa direttamente al tu e si rivolge al giovane. La tua posizione a fianco a me significa un tentativo non solo di scusarsi ma almeno di alleggerire le tue responsabilità per lanciare un messaggio chiaro ai ragazzi della tua età che non ci sia spirito di emollazione. non hai accolto l'invito a questo punto faremo il conteggio delle tue bravure cosa sono costate al tuo senso di irresponsabilità tu e della tua famiglia a questo punto perché sono veramente sconcertato dall'unica preoccupazione che tu abbia avuto che è quella di non far vedere la tua faccia. Un messaggio comunque forte per chiunque abbia intenzione di farsi beffe delle regole sia quelle del codice della strada che quelle della civile convivenza. Lo stavamo dimostrando e lui ce n'è dato una buona occasione e il rispetto delle regole deve essere quantomeno principe in ogni atteggiamento sociale. Il ragazzo stava dimostrando tutta la sua grande capacità di essere irresponsabile verso le regole. Gli ho dato l'occasione di scusarsi in diretta non l'ha accettato e a questo punto arriveremo alle sue responsabilità nel complesso significa che faremo il percorso a ritroso di tutti i suoi atteggiamenti che hanno violato non solo il codice della strada ma anche il rispetto delle regole. Vi racconteremo come andrà a finire quando arriverà il conto che sembra essere molto salato questo ciclista spericolato. Adesso cambiamo argomento andiamo in San Michele dove c'è stata la serata sui Pifas. Sala piena, tante novità e anche tanti interrogativi. Sala piena, tante informazioni, qualche preoccupazione e un buco nero pieno di domande su quello che è successo in passato sulle colline bassanesi con la gestione dei rifiuti. Sono questi i temi della serata sui Pifas in San Michele organizzata dalle opposizioni cittadine. Una serata ricchissima di contenuti di valore, di approfondimento sul tema dei Pifas, sulla storia del nostro territorio, sulle colline bassanesi. Si è parlato ovviamente dei Pifas dal punto di vista chimico e fisiologico ma si è parlato anche di storia e di territorio. Abbiamo capito cosa sono i Pifas, abbiamo capito cosa generano le persone, si è assunti. Nel corso della serata è stata costruita una mappa geografica e storica di un territorio che in passato, qualche decennio fa, ha visto accadere cose che oggi sarebbero inaccettabili. Esattamente come è successo in molte altre zone del Veneto dove cave e buchi venivano riempiti a volte con quel che faceva comodo smaltire senza troppe carte bollate. Abbiamo visto come negli anni 50-60 il nostro territorio sia stato oggetto di un vero e proprio saccheggio dal punto di vista delle cave, dei buchi che venivano fatti. Spesso questi buchi quando venivano richiusi non sempre venivano richiusi con materiale che rimaneva inerte ma spesso venivano richiusi con materiale e rifiuti che oggi ci presentano al conto. C'è tempo e spazio pure per una frecciata del sindaco Nicola Finco che era stato invitato alla serata e ha subito declinato l'invito bollando l'evento come una riunione politica. Abbiamo preso atto del fatto che seppur invitato il sindaco ha preferito non partecipare perché ha ritenuto di parte, riteneva di parte questo incontro cosa che per chi è venuto ha potuto tranquillamente vedere che c'era poca politica e molte persone, molta partecipazione. Il materiale raccolto verrà impacchettato e spedito ai referenti del tavolo tecnico sui Pifasi in San Michele convocato dall'amministrazione comunale. Le invieremo come consiglieri comunali e chiederemo, faremo alcune domande, alcune osservazioni e chiederemo delle risposte. Visto che c'è un tavolo tecnico noi porteremo le nostre concentrazioni e chiederemo delle risposte a nome di tutti i cittadini. A proposito dell'amministrazione Finco è stato nominato il capo di gabinetto. Le elezioni sono andate in archivio da un pezzo, il consiglio lavora a pieno ritmo eppure la giunta. La macchina può partire ma a fianco del pilota che in questo caso è il sindaco Nicola Finco fa comodo avere un navigatore che conosce a mena dito come funziona un apparato complesso come quello del municipio dell'ottavo comune del Veneto. In queste settimane ho formato la struttura di gabinetto del sindaco, ho trovato un paio di profili. Il profilo apicale è il capo di gabinetto che l'ho individuato nella figura di Angelo Macchia. Quindi è una persona di lunghissima esperienza amministrativa, più di 30 anni all'interno della pubblica amministrazione. Ha seguito per molti anni il comune di Vicenza in qualità di segretario generale, ha seguito per moltissimi anni la provincia di Vicenza sempre in qualità di segretario generale e poi moltissime altre amministrazioni comunali ma anche partecipate della nostra provincia non solo. Dalla A di Asiago alla Z di Zuliano sono tanti i comuni del territorio in cui Macchia ha lavorato. E ora in questo alfabeto istituzionale va aggiunta anche la B di Bassano. Una persona che mi accompagnerà nel corso di questi anni per risolvere le tante criticità e i tanti problemi che abbiamo all'interno del nostro comune. La lista della spesa è lunga e comprende tutti i grandi temi della città, fra incompiute e sogni da tirare fuori dal cassetto in cui rimangono a prendere polvere da troppo tempo ormai. Abbiamo ovviamente i vari temi caldi, quindi in primis abbiamo tutta la questione del piano marma, abbiamo tutta la tematica delle case di riposo che sono i due temi principali sui quali stiamo lavorando in queste settimane ma poi sappiamo che le tematiche sono tante, dal teatro a tutto il problema degli interventi da un punto di vista urbanistico, da un punto di vista anche dei lavori pubblici. Quindi carne al fuoco ce n'è tanta, però insomma uno alla volta cerchiamo di risolvergli questi problemi. Insomma, le cose da fare sono molte, come pure i passaggi per riprendere i molti fili sciolti dalla razza bassanese. E fin coavverte ci vorrà pure qualche mese per poter mettere in moto la macchina. Un municipio da poco più di due mesi, la giunta è stata nominata ai primi di luglio, insomma il tempo di prendere le misure, ovviamente poi la macchina parte. Se poi qualcuno pretende che in due mesi si risolviano tutti i problemi di una comunità, per carità ognuno ha le sue pretese, ma io sono abituato a fare le cose e ad annunciarle una volta risolte e una volta fatte. C'è un giallo in corso a Bassano, una donna è stata trovata ai piedi del condominio in cui vive. Prima il volo, poi il tonfo, infine le urla. L'alba di lunedì nelle palazzine di via Villa Raspa a Bassano ha avuto un risveglio drammatico quando poco prima delle 4.30 è stata udita la caduta dal secondo piano di una donna di 36 anni che era all'interno dell'appartamento del compagno. Sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso del suo e mele pattuglie dei carabinieri che hanno smentito l'ipotesi del coinvolgimento di altre persone nella vicenda. Si propende infatti per un gesto volontario legato probabilmente ad uno stato di disagio che la donna avrebbe già espresso in passato. Questa è la palazzina civico 37 di via Villa Raspa dove si è verificata la caduta di questa donna nella parte interna del condominio, una struttura che è addossata ad altre strutture abitative presenti nella zona nei pressi della stazione ferroviaria. La 36enne è stata ricoverata all'ospedale San Bassiano con fratture multiple e specie agli arti inferiori. Solo dopo il risveglio dalla sedazione sarà possibile agli inquirenti sentire la sua versione dei fatti e la motivazione del gesto che ha creato grande scompiglio e preoccupazione tra i residenti del complesso residenziale. Il fatto che le finestre di alcuni appartamenti fossero rimaste aperte per il caldo ha consentito l'immediato intervento dei soccorsi e il primo aiuto alla donna ferita. C'è tensione nelle case di riposo, oggi c'è stata una manifestazione di protesta a Tiene, vediamo perché. È già fissato a lunedì 16 settembre lo sciopero nazionale del personale dipendente degli enti di assistenza sociale. A Tiene, all'esterno del centro residenziale Guidonegri appartenente alla fondazione OIC di Padova, si è svolto il primo di una serie di presidi di protesta per il mancato rinnovo del contratto e le difficili condizioni lavorative. Qui parliamo di un sit-in a favore di un rinnovo contrattuale che riguarda 135.000 lavoratori, lavoratori che sono stati definiti i nostri eroi nel periodo del Covid, e a cui ora viene negata la dignità di un contratto che recuperi almeno, ma vorremmo anche di più, di quello che è il caro vita. Il contratto è scaduto da oltre quattro anni. Chiediamo dignità e rispetto per i nostri lavoratori. Non ci accontentiamo di briciole. È ora di far rumore, farci sentire e ottenere quello che i lavoratori hanno diritto. Mancano infermieri e operatori sociosanitari. Con una pressione psicofisica denunciano i sindacati sempre più forte sul personale in servizio. In carichi di lavoro pesantissimi, non c'è più dignità nell'assistere gli ospiti e non c'è più personale che possa assistere. È tutto sotto cooperative, purtroppo. Esternalizzazioni che portano in dote anche a volte poche competenze, non dovute sicuramente alla scarsa preparazione, ma alla poca formazione che alcuni settori in questo momento stanno mettendo in campo. Dare servizi migliori agli ospiti, superare le criticità denunciate dai lavoratori. Questi gli obiettivi della mobilitazione. Da noi tutti i dipendenti se ne stanno andando. Abbiamo un continuo esodo di lavoratori verso altre strutture, altre realtà, perché gli stipendi sono troppo bassi. Siamo qui oggi a rappresentare tutte le strutture dell'RSA, delle strutture a livello nazionale, sindacale, regionale dell'UNEBA del Veneto. Adesso bisogna che ci pensino anche a noi. Una mobilitazione che è destinata a espandersi a macchia d'olio in tutta la regione. Ovviamente vi daremo conto anche delle prossime prese di posizione di un settore molto importante. Adesso vediamo invece la situazione legata al meteo perché è un'estate davvero torrida. Le mezze stagioni non ci sono più da un po' e non è solo la saggezza popolare a dirlo. I termometri e le centraline di rilevamento forniscono numeri sempre più preoccupanti. E pensare, questo lo spiegano gli esperti, che col primo settembre sarebbe iniziato l'autunno meteorologico. In realtà l'estate è rimasta a lungo dopo un giugno umido, ma nella media. Due mesi di continua calura, un'unica e vera ondata di caldo perché non abbiamo mai avuto una pausa, mai. Abbiamo avuto qualche temporale, per carità, perché questo è da segnalare, ma non abbiamo mai avuto un vero e proprio ricircolo d'aria. I valori sono saliti molto in alto. Negli ultimi 60 giorni a Rosà l'ARPA aveva registrato una temperatura media di 33,6 gradi, con punte quasi di 37. Nessun conforto, anche dalle minime 21,5 di media, quasi mai sotto i 20. L'umidità ha sfiorato il 90% in tutto il periodo. Nell'ultimo secolo mai si erano registrati valori così alti. Parliamo di valori, oltre la media, non di 2-3 gradi, ma oltre la media purtroppo è molto spesso, anche intorno ai 4-6, anche 8 gradi. Medie, che ricordiamo, sono già alte perché sono state aggiornate dal 1990 al 2020. Preoccupa anche la temperatura della terra da due mesi, stabilmente tra i 28 e i 29 gradi, anche a 30 centimetri di profondità. Il fresco però non sembra lontano. Finalmente dopo due mesi si tornerà, soprattutto da giovedì, a respirare. Nel weekend avremo temperature gradevoli tutto sommato e poi dall'inizio della prossima settimana si intravede un altro peggioramento che potrebbe far calare ancora un po' le temperature. Dal caldo, torrido, a rischio di incendi, il passo è davvero molto breve. La Regione Veneto ha allungato la lista dei comuni a rischio incendi. L'ultimo aggiornamento contiene un centinaio di comuni, 50 del Vicentino, una quarantina del Trevigiano, gli altri fra Rovigo e Venezia. Tra Brenta e Grappa la situazione al momento è sotto controllo, anche grazie al lavoro di sorveglianza dei volontari delle sei associazioni che fanno parte del coordinamento antincendi. I rischi però ci sono. Il rischio più grande è appunto quello che qualcuno appicchi il fuoco, chiaramente, perché la maggior parte degli incendi sono dolosi, voluti o non voluti, ma comunque sono dolosi. Sta di fatto che la pericolosità maggiore è quella che magari qualcuno si avvicini al bosco e accenda magari un fuoco suo per bruciare della ramaglia o qualcosa e gli scappi. Ecco, questo è il rischio maggiore. In caso di violazione dell'ordinanza regionale sull'accensione di fuochi all'aperto in zone a rischio la multa arriva a 2.000 euro. Per l'area pedemontana i pericoli più grandi sono però concentrati negli inverni secchi, specialmente se l'erba e il sottobosco non vengono curati. Abbandonare le terre alti è quindi potenziale causa di incendi. È un elemento scatenante il fatto di non curare la montagna. La montagna va curata assolutamente, va mantenuta sempre, non dico pulita, ma comunque mantenere quelle attività che c'erano anche una volta. Per la gestione dell'emergenza incendi esiste una catena di comando ben precisa. Parte tutto dalla regione, dal nostro assessore regionale che ha in mano tutta la situazione ed è sempre in prima linea. Dopodiché passa ai servizi forestali che ci chiamano in caso di necessità. 112 o 115 sono questi i numeri da chiamare in caso di emergenza. Appena si vede fumo chiamare, quella è la cosa più importante da fare. Dopodiché ci sono gli organi preposti che verificano se è un incendio vero oppure se è solamente il cammino che fa di una casa. Ancora lupi in azione sia in alto piano che in pianura. Non c'è pace in alto piano e neppure alle pendici delle montagne vicentine. Nei giorni scorsi si sono moltiplicate le predazioni da parte dei lupi e danni delle maghe dei sette comuni e si moltiplicano pure gli avvistamenti e le segnalazioni nelle contrade di Marostica. In montagna i selvatici hanno ucciso due vacche, una a Cesuna e l'altra a Malga Mosche, a due passi dal Turcio in una zona sempre molto frequentata. In precedenza era stato predato anche un capo di una delle maghe della Val Maron nell'estate più nera per numero di aggressione agli animali in alpeggio. In collina e in pianura invece sono svariate le segnalazioni di lupi di passaggio, impronte e ululati notturni che inquietano i residenti. E dalla segnalazione dei lupi alle vostre segnalazioni. Ci sono gli scatoloni di cartone ammassati, c'è del pentolame non più utile sui fornelli, c'è perfino una siringa con tanto di ago scoperto. È il campionario dei rifiuti che un telespettatore ci ha segnalato in località San Nazario di Valbrenta, appena all'inizio di salita Valduga. L'isola ecologica con le sue palizzate si trova a ridosso della strada statale 47 e viene usata a quanto pare come una piccola discarica in cui c'è ben poco di regolare. Anzi, forse proprio il fatto di poter nascondere alla vista ciò che viene depositato diventa in qualche modo una maschera per chi decide di usare questo luogo esattamente al contrario di ciò che dovrebbe essere. Un'isola ecologica che di ecologico non ha ormai più nulla. E anche voi potete segnalare quello che non va, quindi pattume, degrado, abbandono di rifiuti a Whatsapp con un video, una foto possibilmente orizzontale al 340-321-8379 o via mail a redazione chiocciola reteveneta.it. Cambiamo argomento, andiamo a vedere le ultime prove prima della partita a scacchi di Marostica. Storia e tradizione, anzi di più, perché è una questione di appartenenza, di identità. Di cuore, Marostica si prepara all'appuntamento più atteso sulla scacchiera della piazza, lì dove ha cittadinanza, l'anima marosticense. E lo si capisce dalle prove che ogni sera vedono quasi 700 figuranti della pro Marostica impegnati a far rivivere la contesa d'amore di Vieri da Vallonara, Rinaldo d'Angarano e della bella Leonora. Le frecce infuocate che incendieranno i bordi della scacchiera sono pronte per essere scoccate per quella che si annuncia come la partita a scacchi con personaggi viventi più suggestiva di sempre. È un mondo che sta cambiando, quindi anche la partita, senza tradire la sua origine, la sua identità, si modifica e in qualche modo si relaziona con il mondo. Quindi sarà la partita più bella di sempre, perché adotteremo comunque variazioni, cambiamenti, tecnologie che daranno allo spettatore il gusto di seguire uno show vero e proprio. Uno spettacolo che, come detto, da quest'anno presenta importanti novità, a cominciare dal contributo di Massimiliano Volpini, già coreografo di Roberto Bolle, e dalla collaborazione con l'Accademia del Teatro alla Scala di Milano. La cosa che è straordinaria di questo evento è il fatto che tutti loro la sentono come una cosa che gli appartiene davvero. Loro appartengono alla partita e la partita appartiene alla popolazione di Marostica. Le emozioni sono tante e si fanno sentire sempre di più nell'avvicinarsi, devo dire entusiasmo, curiosità, perché per me è la prima volta. Il resto è storia, leggenda, mito o semplicemente è lo spettacolo della partita a scacchi di Marostica. Ed è tutto pronto sul Monte Grappa per una importante cerimonia. Il cimitero del Costone sul Monte Grappa, nei pressi di Malga Pat, è stato sistemato e tirato lucido dai fanti di Tezze, Rosà e Longa, dagli Alpini di Borso e dal Diciottesimo Arditi. Il Campo Santo, del quale si era persa quasi la memoria, è stato restaurato di recente e ora è sede ogni anno di un evento molto sentito. L'area è pronta quindi per ospitare la cerimonia commemorativa in programma domenica pomeriggio, con l'alza bandiera e la deposizione di una corona d'alloro in memoria di tutti i caduti. Ennesimo incidente stradale nell'alta Padovana sulla 307 del Santo, dove un'auto e uno scooter si sono scontrati. Alcuni testimoni hanno riferito che il motociclo condotto da un uomo avrebbe superato davanti a sé due veicoli più un camion andando poi a impattare sulla vettura che era condotta da una donna. Ma quest'ultimo è riportato solo un graffio, mentre il motociclista è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Padova. E ci sono anche dei predoni scatenati nell'alta Padovana. I padroni di casa sono alla Sagra e i ladri approfittano per fare razzia nella loro abitazione. È successo a San Martino di Lupari nell'alta Padovana. Sabato scorso i predoni hanno approfittato dell'assenza di proprietari di casa per intrufolarsi nell'abitazione. Dopo il loro passaggio, il solito scenario, cassetti svuotati e stanze a soquadro. Il bottino è risultato essere di qualche moneta e un paio di Airpods, i popolari auricolari per il telefono. Un bottino economicamente magro, ma che per i derubati, come accade spesso in questi casi, è carico di valore affettivo. Le cuffiette, infatti, erano state regalate poco più di un mese fa alla figlia dei proprietari di casa dai nonni per il conseguimento della maturità. Un prezioso ricordo rubato da predoni senza scrupoli. Dopo di noi, alle 21.15, il direttore Luigi Bacciagli avrà come ospiti una serata decisamente interessante di Focus. Paolo Bonafè, Giacomo Cerver, Manno Giudici, Roberto Marcato, Giuseppe Montuori, Leonardo Padrin e Giuseppe Pan. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Vi ringraziamo per essere stati con noi. Vi auguriamo una buona serata e, come sempre, vi lasciamo al meteo. Grazie a tutti.